Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. L'alta pressione sul Mediterraneo porta tempo in prevalenza asciutto. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 28 aprile. Addensamenti in transito al mattino su isole maggiori Calabria ma senza fenomeni associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità in transito su Sardegna e Sicilia. Isolate piogge possibili sulle Alpi Occidentali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta la penisola con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionari o il lieve aumento ovunque salvo una lieve flessione dei valori diurni al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.